Cos'è la leucoplachia orale? Leucoplachia orale generalmente si riferisce a lesioni precancerose orali. Tipicamente, la leucoplachia orale è visibile sul tessuto interno della guancia, o può svilupparsi ovunque sulla lingua. Comunemente, la leucoplachia si sviluppa a causa dell'irritazione cronica. Alcune fonti di sostanze irritanti che possono contribuire all'incidenza della leucoplachia orale comprendono l'irritazione da protesi malate, fumo o tabacco da masticare. Gli individui che masticano il tabacco di solito tengono la sostanza in bocca per lunghi periodi, contribuendo all'irritazione orale. Una condizione chiamata leucoplachia pelosa è una forma della condizione che può essere vista nel paziente immunitario compromesso. La leucoplachia pelosa può essere il primo segno di un'infezione da virus dell'immunodeficienza umana. Sebbene questa condizione possa indicare un segno o un sintomo del virus dell'immunodeficienza umana, può anche essere causata dal trapianto post midollo osseo o dai virus Epstein-Barr. La leucoplachia orale può anche somigliare a una condizione chiamata mughetto. Il mughetto si riferisce a un'infezione simile al lievito causata da una sostanza chiamata candida. Il mughetto è comunemente associato a condizioni di immunodeficienza come il virus dell'immunodeficienza i tipici sintomi della leucoplachia orale possono includere lesioni cutanee sulla lingua e sulle guance. Sebbene le lesioni siano di solito di colore grigio o bianco, possono anche essere rosse. Le lesioni orali rosse sono indicate come eritroplachia. Queste lesioni della bocca possono essere leggermente sollevate, dure e leggermente spessite. In alternativa, i cerotti della leucoplachia pelosa possono apparire bianchi e sfocati. Queste lesioni sono in genere indolori e solitamente si trovano sulla lingua. Generalmente, una diagnosi di leucoplachia orale può essere fatta dopo che il medico ha visto la lesione. I cerotti bianchi di solito si sviluppano per mesi e possono diventare ruvidi e sensibili al calore, al tatto o al piccantezza del cibo. Occasionalmente, il medico può raccomandare una biopsia della leucoplachia orale. Una biopsia può mostrare cambiamenti o mutazioni che possono essere diagnostici del cancro orale. Il trattamento per la leucoplachia orale può comprendere la completa eliminazione della lesione della bocca. La rimozione di fonti irritanti, come protesi dolorose o corone, può contribuire al processo di guarigione. I pazienti dovrebbero anche smettere di fumare e masticare tabacco, poiché questi contribuiscono notevolmente all'irritazione della membrana orale delle mucose. I pazienti sono spesso invitati a cercare l'aiuto del proprio medico se non sono in grado di smettere di usare i prodotti del tabacco da soli. Occasionalmente, l'intervento chirurgico può essere utilizzato per asportare la lesione. Le leucoplachie orali sono più spesso rimosse nell'ambulatorio del medico o in un ambiente ambulatoriale. L'anestesia locale viene utilizzata per intorpidire la cavità orale, in modo che la lesione possa essere efficacemente rimossa senza dolore. Il più delle volte, la leucoplachia è benigna e innocua. Queste lesioni orali si risolvono comunemente in pochi mesi se le fonti irritanti vengono effettivamente rimosse. Si avvisano i pazienti di notificare al proprio medico se notano eventuali anomalie orali.